no vabbè raga no non ci posso credere ma questo è uscito da un cartone animato come fa davvero un culo del genere scusate è impossibile è impossibile ma che cazzo aveva quella ma non ha senso no grazie mille insomma avete visto che roba che cazzo ce n'è rimasto male sono rimasto male sì sono rimasto proprio da merda ho visto bene porca puttana hai visto benissimo onestamente speravo di aver visto male io vabbè raga quelle sono iniezioni comunque non nasci non nasci con il culo così non ti fai venire il culo così quella è tutta chirurgia marcia stai male comunque ho mai vista in vita mia una roba del genere impressionante impressionante non avevo mai visto una natica così larga cioè assurdo porca troia bastarda miseria le chiavi di casa dentro potevi arredarlo col culo porca troia a parte gli scherzi col dovuto rispetto era un po' tomace mi sembrava uno di quel uno di quei personaggi di chirurgia che è estrema quelli che fanno vedere che gli hanno sbagliato gli interventi e che hanno tipo le facce tutte deformate proprio di solito quelle cose le vedi nei programmi americani non pensavo di trovarmene una davanti che invece da avere da verlo in faccia ce l'aveva in culo c'è assurdo assurdo proprio